Una visita significativa qui in prefettura a Milano perché stanno per siglare l'accordo, il protocollo per il recupero di quello che un tempo era il più grande mercato della droga in Europa, alla periferia di Milano, a Rogoredo. E sta diventando invece un grande bellissimo parco pubblico grazie anche all'attività dei detenuti del carcere di opera che vengono coinvolti nel lavoro insieme con tanti volontari. La ministra Marta Cartabia starà parlando adesso, poco fa ha parlato il sindaco di Milano Beppe Sala e ancora prima il prefetto Renato Saccone. Appunto per questa iniziativa poi ci sarà la visita direttamente in questi luoghi una volta pieni di immondizie e di degrado dove circolavano centinaia di drogati e finalmente recuperati. Ma vedremo come andrà avanti la giornata milanese della ministra Cartabia, vi racconteremo.